Oltre 500 mila euro finanziati dalla regione toscana per realizzare un camminamento pensato per le migliaia di disabili che ogni anno raggiungono il Monte Santo della Verna. Al momento la suggestiva strada che attraversa la foresta monumentale si presenta infatti disconnessa e irregolare a causa della pavimentazione in pietra con evidenti difficoltà per chi la percorre in carrozzina. Il progetto presentato dall'amministrazione comunale accolto dalla regione prevede la realizzazione di un percorso sicuro e irregolare che consentirà alle persone con disabilità un facile accesso al santuario. L'obiettivo è quello di accogliere il maggior numero di fedeli anche in vista degli importanti appuntamenti dei prossimi anni ovvero il centenario del presepe di Greccio nel 2023, gli 800 anni dalle stimate di San Francesco nel 2024, il centenario del Cantico delle Creature e infine nel 2026 la morte del Santo. Sono molto orgoglioso del risultato ottenuto dal nostro progetto ha dichiarato il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini, la regione che ringrazio ha accolto lo spirito e l'obiettivo dell'idea che abbiamo proposto dando il via libera al contributo. Fin dai primi giorni del nuovo anno ci metteremo al lavoro.